Buonasera a tutti, sono Carlo Lucarelli, questo è D. Giallo su Radio DJ e io sono qui per raccontarvi la storia di una strana donna che diceva che tutte le sere faceva l'amore con 20.000 persone. E lo faceva per davvero, con tutti i suoi sensi, anche se quelle 20.000 persone non la toccavano nemmeno. Se ne stavano laggiù, sotto il palco, a guardarla cantare. Questa infatti è la storia di Janice Joplin e della sua strana morte. Diceva che faceva l'amore con tutti i suoi fan che andavano a sentirla nei concerti, ed era vero. Lo sapevano quelli che andavano a sentirla nei piccoli club. all'inizio in pochi, poi sempre di più. E poi lo sentirono all'improvviso in tanti, tantissimi, tutti quelli che erano al Festival Pop di Monterrey nel giugno del 1967 e videro quella strana ragazza, biondina, grassoccia, ma incredibilmente sensuale che cantava una versione particolarissima di Ball & Chain dei Big Mama Thornton. Sono gli anni 60, la fine degli anni 60, gli anni degli hippie, quelli della contestazione, della trasgressione, gli anni dei mega concerti di pace, amore e musica. Giannis all'inizio suona con un suo gruppo, i Big Brother and the Holding Company, poi li lascia e si mette con altri gruppi, ma è come se fosse da sola, perché non ha bisogno di nessuno. Ha questa voce particolarissima, che riesce ad essere roca e acutissima nello spazio di una nota. Ha questo modo di cantare straziante e dolcissimo, oppure arrabbiato all'improvviso. Fa come faceva Jimi Hendrix, prende canzoni conosciutissime, dei classici, e ne fa una versione sua che è tutta un'altra cosa, in linea con le inquietudini di quegli anni. Prende Summertime, di George Gershwin, per esempio, quella di Louis Armstrong e di Ella Fitzgerald, e ne fa la Summertime di Janis Joplin. Una così, una che fa l'amore con 20.000 persone ogni sera, non possono non chiamarla la più grande cantante di blues bianca di tutti i tempi. I suoi dischi, infatti, vendono. Vendono quelli in studio, ma soprattutto ci sono i live, dove del meglio di sé. Brani storici, come Me & Bobby McGee, Mercedes-Benz, oppure Lorde. Sono gli anni 60, gli anni della creatività e della contestazione, certo, però sono anche gli anni della droga. E lei è Janis Joplin, è una che fa l'amore con tutte quelle persone tutte le sere. È quella che canta in quel modo, con straziante sensualità, e poi è una star del rock, e di droga, e consuma parecchia. Il suo album più bello, probabilmente, si chiama Pearl, ed è del 1971. Ma Pearl esce postumo, perché nel 71 Janis è già morta. È morta nell'ottobre del 1970, di overdose. Janis Joplin muore il 3 ottobre 1970. La trovano nella sua camera d'albergo, al Landmark Motor Hotel di Hollywood. Ad occuparsi di lei, per capire cosa possa essere successo alla più grande cantante bianca di blues, è un coroner famoso, è lo stesso che aveva fatto l'autopsia Marilyn Monroe. È il coroner di Hollywood, un giapponese, che si chiama Noguchi. Il dottor Noguchi non ha dubbi. Overdose. Ad uccidere Janis Joplin è stata una dose fatale di eroina pura al 50%. Janis si faceva di eroina da tempo. Aveva iniziato anni prima e l'aveva trovata un'esperienza sconvolgente. Erano quelli gli anni. E lei era quel tipo. Aveva continuato a farsi, ma con attenzione e con cautela. Si faceva soprattutto nei periodi in cui suonava i concerti o registrava i dischi, perché pensava che l'eroina facesse crescere la sua creatività. E lo pensavano in tanti allora. Stava molto attenta. Si serviva solo da uno spacciatore, sempre lo stesso, che conosceva bene, e che sapeva che era proprio lui a tagliare le dosi, perché era anche un chimico. Così credeva di essere al sicuro. Quel giorno però, quel pomeriggio del 3 ottobre 1970, era un sabato, le cose vanno diversamente. Janis resta a lavorare in studio fino a tardi. Stanno registrando Pearl, il suo album più bello. Pearl, come era soprannominata anche lei, la più grande cantante bianca di blues. Finita la sessione di registrazione, Janis va in un bar a bere con i musicisti. Beve parecchio. Janis è una che beve. Beve Satin Comfort e ne beve molto. Una volta addirittura aveva fatto a botte anche con una ragazza degli Hells Angels, dopo un suo concerto. E poi guidava Ubriaca, guidava una Porsche, disegnata con colori psichedelici, come una pazza per la città. Quella volta beve molto, poi se ne torna in albergo, compra un pacchetto di sigarette da un distributore automatico, ma ovviamente il fumo non le basta. Dov'è il suo amico spacciatore? Non c'è. Janis non lo trova. Così si serve da un altro, che non conosce, e questo gli vende una dose troppo pura, troppo forte, 50%. Janis se la inietta in quella stanza d'albergo, va in overdose, non c'è nessuno ad aiutarla, e muore. Sembrerebbe una storia chiara, anche troppo chiara, e sicuramente lo è. Ma come accade per tutte le star del rock che muoiono giovani e all'improvviso, nascono subito le leggende, i misteri, le teorie. Ce ne sono due per Janis Doplin, in particolare. La prima ha a che fare naturalmente con la CIA, il servizio segreto americano. Perché Janis non ha trovato il solito spacciatore, ma un altro che le ha venduto la dose fatale? È ovvio, è stata la CIA a sostituirlo. E perché? Per lo stesso motivo per cui sono stati ammazzati John Lennon o Jimi Hendrix. Perché sono dei sovversivi, dei leader della contestazione, degli anti-americani e quindi dei terroristi. C'è tutto un piano della CIA, dicono alcuni, per eliminare gli intellettuali scomodi. A Lennon li hanno sparato, a Jimmy e Janis li hanno ammazzati con la droga. L'altra teoria ha a che fare con il destino, anzi con una maledizione, la maledizione del 27. Quando Janis Doplin muore a 27 anni, poco prima e poco dopo erano morti altri personaggi del mondo della musica e tutti avevano 27 anni, Jim Morrison, Jimi Hendrix e anche Brian Jones. Ma non solo erano morti tutti a 27 anni e alcuni di questi nello spazio di pochi mesi in uno dall'altro, ma tutti avevano la J nel proprio nome. È un destino? È una maledizione? Oppure è soltanto un caso? Forse. Forse si tratta di un caso o forse si tratta veramente di una maledizione. O forse ha semplicemente ragione il dottor Naguchi, il coroner di Hollywood. Janis è morta di overdose. E basta.